Sono stati assegnati dalla Regione Toscana 4 milioni di euro di risorse per il cofinanziamento di 14 dei 58 progetti di recupero di aree degradate o immobili in disuso presentati dai comuni delle zone interne sparse sul territorio regionale. Lo ha spiegato l'assessore regionale all'urbanistica Vincenzo Ceccarelli. I progetti finanziati riguardano i comuni delle province di Grosseto, Lucca, Arezzo, Siena, Massa Carrara, Firenze e Prato. Abbiamo visto un grande impegno, una grande capacità dei comuni, in questo caso appunto delle aree interne per dare soluzioni a problemi di faticenza, magari di degrado di alcune situazioni che con questi finanziamenti invece riprenderanno nuova vita. I progetti di rigenerazione urbana riguardano anche la valorizzazione di spazi aperti e nell'ottica del consumo zero di suolo ora la Giunta regionale punta a destinare altre risorse del bilancio di previsione 2020-2022 per scorrere la graduatoria a favore dei progetti non ancora finanziati.